Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Continuiamo la nostra serie con project WONDERWAF e siamo agli sgoccioli, siamo a 7 giorni alla fine, scrollando qui ci manca ancora da scoprire un po' di robe passeremo subito col tier 3 ma ci serve 1500 kg di gold. Nel frattempo stiamo producendo... no non lo produce più, il cemento va infinito vai di infinito... non posso fare anche questo infinito no vero? Allora facciamo così, creiamo un'altra cement plant, produzione, cement plant ci servono 40 pipes, dove le facciamo le pipes? le pipes, pipe, 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 iron spool, ok questo è tutto bloccato... qui non kill... ah quelli in progress non li kill... ok allora per fare le pipe abbiamo bisogno dell'iron spool... iron spool... ok dove lo facciamo l'iron spool... cos'è? iron spool... no lo facciamo qua... questo si è bloccato... è bloccato... iron plate... questo anche esso è bloccato... mmmm... mp, mp, mp... andiamo in pausa un attimo... ah no in pausa non possiamo fare niente... ok va bene... e non mi ricordo dove si facevano i pipe... e poi quelli qua... sono questi qua... si facevano da qualche parte no? o ce li... ce li portano... mmmm... che io non li trovo... come al solito io perdo le cose... questo qua... 10 lavoratori... ma eccole qua... no... questo fa dalle pipe a quello... niente... eh... signori... non so dove si fanno le pippe... le pippe... le pippe... pippe... pistols... allora... scusa eh... cioè... qua... pippe... poi ci vogliono gli aerospool... gli aerospool... no le pipe... le pipes ce le avevamo visto... ok giusto... ok... adesso ci servono gli aerospool... gli aerospool... come si fanno? non si fanno... chemical plant... non si fanno gli aerospool... si... ci sono già... cioè... vabbè... eeeh... fai questo... eeeh... così... non funziona... perchè senza gli aerospool... eeeh... fai questo... eeeh... così... non funziona... perchè senza gli aerospool... andiamo eh... questo... eeeh... questo fa tutto cemento... intanto facciamo quello così... lo importiamo... ah... forse ce li porta adesso... allora... vediamo... pippe... già... ma stiamo producendo ferro noi? no... per tutto il game... ma questa è ferma... quindi... rimuoviamo questa... ok... questa... si... call... questo sta prendendo il gold... questo prende la stone... questo è il call... 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 sa che forse non stiamo più prendendo il ferro? ecco perchè... facciamo... schifo... non c'è più ferro qua... ah... la la... facciamo così... eeeh... questo qua è la miniera... che andremo a mettere qua... però prima ci dobbiamo costruire... tutto il tunnel... lo facciamo... vai... e io direi di farne... due... e tre... poi andiamo in produzione... miniera... sei giorni... sei... va bene... b... miniera... e poi un'altra miniera... la costruiamo qua... ok... aspettiamo che costruisca... e... adesso che ha costruito mettiamo 5 lavoratori qua... così incominciano a... e facciamo anche subito un upgrade... tanti lo possiamo fare? sì... 5 lavoratori qua... e facciamo un upgrade pure qua... e 5 lavoratori qua... e facciamo un upgrade pure qua... ma qua non lo possiamo fare... perchè ci manca il prefabbricate walls... va bene... allora... allora... andiamo qui... no... non è qua... è qui... allora... 5 6 6 1 7 8... qui li mandiamo... non possiamo mandare niente... non possiamo mandare niente... così... un po' tragica la cosa tear lo possiamo fare quanto ci manca? 960 siamo lontanissimi allora qua è tutto strano qua è un sacco di roba allora cosa sta producendo e io voglio fare un altro chemical plant no non è cement plant cement plant cement plant servono 40 metri di pipes che ancora non li possiamo fare fino a quando non facciamo l'iron spool l'iron spool l'iron plate e i boot spool l'iron spool il problema è capire se l'aero spool lo devo fare oppure no eccolo qua no no l'iron spool è questo qui ma credo che io non lo debba fare signori mi sono un attimo confuso perché ah eccolo qua mannaggia sì che lo devo fare sì che lo devo fare questo ci vuole il coal con dieci di coal coal ne stiamo prendendo noi? sì ma ne prendiamo poco secondo me molto poco questo è un tunnel perché ci sono dei tunnel qua? dai ci da indietro il coal forse allora facciamo così tunnel anzi facciamo così ascensore tunnel miniera vai aspettiamo che finisca ok quindi zoom out più e facciamo il coal andiamo sopra vediamo se riusciamo a farli adesso le pipe dove è? è qua iron spool questo per fare questo iron ore coal gold ore e coal vediamo proviamo a fare così e facciamo così ok quindi qua lo fa non parte ancora vai di nuovo è il coal che ci frega signori ci sta fregando il coal ma è partito? sì ok quindi andiamo in infinito con questo che è l'unico modo dove possiamo produrre anche questo questo ah ma questo aspetta però perché questo qua ci frega il chemical questa è la pietra e il cemento vuole il crash stone questo fa crash stone ok andiamo a costruire una cement plant la facciamo accanto la facciamo accanto non lo possiamo fare vabbè possiamo farla solo qua va bene va bene va bene B tunnel vai no lo fa lo stesso qua non ce lo fa costruire non gli piace qua vabbè ce lo fa costruire di qua vediamo un po' bustiamo un attimo e qui ci andiamo a dire quattro operatori non ce ne abbiamo ci mancano i worker ci mancano le persone che lavorano allora che erano worker vuole food ration e crash stone quindi food ration cacchio la food ration si fa col gold ed è questa 5 ne vuole 70 non 5 ah no lo possiamo fare perfetto che non ce lo fa fare ah crash stone 5 kg allora vai di infinito crash stone ok e a questo cement plant cosa può fare sono crash stone vabbè questo ma facciamo al contrario crash stone 5 kg già le fatti 10 15 perché chi si sta mangiando si sta mangiando l'oro secondo me allora no che che si mangia i crash stone crash stone allora facciamo così 2 di qua e 2 qua vai di crash stone ok un po' più lento va bene evable 0 evable 0 evable 0 cosa stiamo producendo di infinito niente a fammi vedere qua eeeh coal iron e coal gold gold il gold abbiamo tante miniere dire di rimuovere questi che non ci servono ed facciamo anche una pulizia peccato che non c'è uno shortcut a meno che c'è io non lo so remove 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 dan peterson ok anche questo non serve a niente ci recuperiamo un po' di materiale dovremmo recuperare un po' di materiale poi non lo so ok adesso niente il crash stone non so perché ma dice che non ce n'abbiamo più allora facciamo così questo fa questo e questo qua togliamo questo e gli facciamo fare questo qua no ok questo qua fa questo infinito però non lo fa perché gli manca questo però io lo produco e dove se ne va boh ce li continua a produrre ma non si sa dove va a finire e e qui non c'è qui non sta producendo niente l'unico è questo però questo qua vuole gold ore e coal e basta infatti si io vado qua nel tier 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 960 fissi netti come se si fosse bloccata la produzione di tutto eppure lo spazio ce l'abbiamo infatti 960 di gold lo strade c'è 5 di 16% quindi abbiamo voglia eeeh non lo so non lo so Rick per me è falso facciamo così vabbè che siamo a un giorno dalla dal patatrack vediamo un attimo cosa succede sono curiosissimi succede cosa succede un giorno eeeh loro stanno lavorando lui è tranquillo questo è fermo anche perché non possiamo farci nulla iron plate posso fare gli iron plate e basta viipo 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 posso fare una di queste ah è finito così è finito boom dand 90 ah questo è il mio score 90.412 ok vediamo la leaderboard makusufuote 471.000 ah poi ci sono blank 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 ok bene ah aspetta un attimo qua c'è un coso la tua posizione iota siamo al 1443 esimo posto con 90.412 bene signori ahimè non ce l'abbiamo fatta eeeh direi che possiamo chiudere qui la serie naturalmente non ce l'abbiamo fatta eeeh siamo arrivati lunghi siamo arrivati molto lunghi credo che una pianificazione migliore delle risorse bisogna scavare molto di più creare molte miniere ahimè ma il tempo è veramente misero e secondo me c'è un trick da mandare bisogna mandare le risorse al fronte cioè produrre tanto pietra e cemento e mandarlo sempre al fronte spero che vi sia piaciuta questa serie come sempre lasciate un like un commento e se vi va iscrivetevi per supportare il canale e come sempre siete mitici alla prossima bye bye ciao 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 ciao